Più di mille studenti alla cittadella sportiva universitaria hanno partecipato oggi all'inaugurazione della prima edizione della Festa dello Sport. La manifestazione, dedicata al benessere psicofisico e all'educazione alla salute, è patrocinata dall'università ed è nata dalla collaborazione tra il CUS Unime e l'Istituto Superiore La Farina Basile. La Festa dello Sport si inserisce in un progetto più ampio, studiato dai due enti e formalizzato da un'apposita convenzione stipulata sotto la supervisione del docente Giacomo Pace Gravina, delegato dell'università alla gestione del patrimonio artistico e culturale d'Ateneo. Questa è una di quelle giornate che ci avvicina sempre di più al territorio. Quando riusciamo a riempire un impianto sportivo, una palestra con 1200 ragazzi, penso che non si possa pretendere di più. Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo continuando, stiamo portando tutta la città dentro, la città della sportiva universitaria. Devo dire un grazie sempre all'università che ci sta sempre vicino, a un magnifico rettore che ha capito la reale e la vera importanza dello sport. Spero che questa sia una delle prime iniziative che verrà coinvolta le scuole messinese. Fra poco oggi scuola superiore, domani scuole medie e scuole elementari.